Al via il lavoro di riqualificazione dell'aeroporto Marconi di Bologna, cantieri per due anni, ma alla fine la nostra città avrà uno scalo rinnovato e all'altezza dei principali aeroporti europei, investimenti per 23 milioni di euro. Due tunisini che dormivano sotto il Ponte Lungo sono stati salvati dai vigili del fuoco e dalla polizia dopo essere rimasti bloccati a causa della piena del fiume Reno è una delle conseguenze del maltempo che è imperversa sul nord Italia. Rispondendo ad un'interrogazione della Lega Nord in regione, l'assessore alla sanità Lusenti esclude che si possa parlare di mala sanità per tutti e sei i decessi avvenuti negli ospedali bolognesi nell'ultimo periodo. Abbiamo fiducia nei magistrati, ha detto Lusenti, ma i protocolli emiliani sono i più avanzati d'Italia. Investire in Cina senza paura e bisogna sfruttare i nuovi mercati, collocando il made in Italy laddove nascono i nuovi consumatori e questa la ricetta è indicata in un convegno organizzato da Unicredit, presente anche Romano Prodi. Buone notizie per la Bruno Magli, la storica azienda bolognese che sopravvive grazie ad un accordo firmato in regione, prevista la cassa integrazione fino al dicembre del prossimo anno, poi se necessario gli ammortizzatori sociali. Buonasera e benvenuti a ETG Bologna, si parla molto in questi giorni delle infrastrutture bolognesi tra opere sospese, cantieri sospesi come quelli del Civis, altri cantieri che difficilmente vedranno la luce come quelli per il metro e altri ancora che stentano a prendere il via come in il caso appunto del People Mover. Gli argomenti non mancano ma prendono invece il via i lavori di ammodernamento e riqualificazione dell'aeroporto Marconi di Bologna, i dettagli sono stati presentati oggi, ha seguito la conferenza per noi Simona Iannessa, allora vediamo quali saranno le novità dello scalo bolognese. Decolla il nuovo aeroporto Marconi che tra due anni si presenterà ai passeggeri e alla città con un look completamente rivisitato ma soprattutto ampliato e pronto ad accogliere 7 milioni di viaggiatori, tutto grazie ad un restyling dell'80% delle aree esistenti che porterà un incremento degli spazi di ben 5.000 metri quadrati. I lavori che comporteranno qualche disagio per i bolognesi e per i passeggeri saranno completati entro due anni ma senza compromettere l'operatività dello scalo che diventerà così più funzionale, tecnologico e moderno. Tra le novità la realizzazione di 5 puntili per l'accesso diretto dal terminal agli areomobili e la costruzione di un impianto BHS per la gestione automatizzata dei bagagli in partenza. Dal 21 novembre poi aprirà un terminal aggiuntivo denominato Terminal Est che sarà dedicato ai passeggeri Ryanair provvisti di bagaglio da stiva da imbarcare e obbligati a recarsi al banco controllo visti in migrazione. Sostanzioso l'investimento complessivo di 23 milioni di euro soprattutto in considerazione dei recenti venti di crisi che non stanno risparmiando neppure la nostra città. L'obiettivo è quello che io credo che tutti siamo consapevoli. Questo ormai è un aeroporto bello ma che ha assolutamente bisogno di riqualificarsi proprio nei servizi per i passeggeri che sono una delle attenzioni più alte da parte del nostro consiglio oltre che per chi lavora qui. Quindi era assolutamente indispensabile fare questi lavori anche perché aumentando i passeggeri è evidente che anche i servizi hanno bisogno di essere ulteriormente qualificati. Una inattesa stroncatura appunto del People Mover è arrivata questa mattina dalla CGL. Parliamo appunto sempre di infrastrutture bolognesi. A criticare il collegamento su monorotaia tra l'aeroporto e la stazione di Bologna i cui lavori dovrebbero cominciare nei prossimi mesi è stato il segretario bolognese del sindacato Danilo Gruppi. Per gruppi le opere prioritarie sono il servizio ferroviario metropolitano e il passante nord mentre il People Mover potrebbe avere in prospettiva alti costi per l'amministrazione nel caso non raggiungesse un numero minimo di passeggeri. Voltiamo adesso un pagina. Passiamo alla cronaca. Il maltempo che sta imperversando in molte zone del nord Italia crea problemi e disagi anche nel nostro territorio sebbene senza episodi drammatici come quelli accaduti in Liguria o in Toscana. Questa mattina vigili del fuoco e polizia hanno salvato due tunisini sorpresi dalla piena del fiume Reno mentre dormivano sotto ad un ponte. Questa ed altre notizie nel servizio di Federico Balletti. Due tunisini che dormivano sotto il ponte lungo sono stati salvati da vigili del fuoco e polizia dopo essere rimasti bloccati a causa della piena del fiume Reno. Erano su uno dei basamenti del ponte dove avevano passato la notte ma stamani con livello dell'acqua più alto non sono più riusciti a risalire e hanno chiamato aiuto. I pompieri hanno raggiunto e portato in salvo i due tunisini che erano in buone condizioni. Il maltempo che colpisce il nord Italia che ha reso necessaria la chiusura dell'autostrada A12 per gli allagamenti in Liguria ha anche provocato disagi e code sul tratto appeninico dell'autosole da Casalecchio fino a Barberino. In crisi di astinenza ha fatto due rapine nel giro di mezz'ora racimolando 80 euro che ha subito speso per comprare la droga. È successo ieri sera nei dintorni della stazione di Bologna. L'uomo, un 44enne di Roma, è stato poi arrestato dalla polizia che lo ha rintracciato in via Algardi. Il rapinatore che aveva aggredito tre donne ha ammesso tutto spiegando di non avere più il denaro perché lo aveva usato per acquistare una dose. Un finto guasto alla corrente elettrica per poi simulare un controllo e derubare l'anziano di turno. È l'ultimo espediente scogitato da un truffatore che ieri in via Lemonia ha preso di mira una coppia di coniugi, lui di 88 anni e la moglie di 87. Il finto elettricista prima ha provocato un blackout poi ha simulato una riparazione per la quale si è fatto pagare 80 euro. Ma non è tutto quando se n'è andato. I coniugi sono accorti che aveva anche rovistato in camera da letto e portò via diversi gioielli e oggetti in oro. E a proposito ancora della notizia dei due tunisini salvati dalla piena del Reno. Poco fa sono stati ultimati gli accertamenti su di loro. È emerso che hanno 19 e 21 anni e sono entrambi irregolari. Il primo ha a carico un recente provvedimento di espulsione emesso il 21 di ottobre scorso. Tecnicamente è quindi ancora nei tempi di legge per rispettarlo. L'altro è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione della Questura. Restiamo alla cronaca e torniamo ad occuparci dell'azienda tessile gestita da cinesi finita nei guai dopo un controllo dei carabinieri che hanno trovato quasi tutti i lavoratori in nero e metà completamente irregolari. La ditta che si trova in via Mattei è stata posta sotto sequestro. Intanto gli accertamenti proseguono anche per verificare per quali aziende il laboratorio produceva i vestiti. Abbiamo fatto il punto della vicenda con il comandante del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri. Sentiamo. Allora l'operazione di via Mattei è il risultato di un'attività veramente sinceramente di un'attività di indagine. I lavoratori clandestini sono stati esattamente 8 su 16, il 50%, ma parliamo anche di 16 lavoratori in nero, che è una cosa anomala. Negli ultimi anni non si era mai assistito a questo alto range di lavoratori in nero. Ecco il motivo del provento di sospensione. Che dire, dei cinesi non si ha mai la certezza, nel senso che l'accertamento che i cinesi, come dicevo anche poc'anzi, deve essere sviluppato chiaramente su un'attività di intelligence. Non si può pensare che soprattutto nei laboratori andiamo e troviamo, non hanno un orario di lavoro. Loro hanno una concezione dell'orario, nonostante siano migliorati, che è completamente diversa da quello che hanno le attività nazionali. In questo laboratorio si producevano confezioni soprattutto per ditte italiane. Voi state lavorando anche su questo fronte? Stiamo lavorando a fatica perché a differenza del passato non abbiamo trovato sul posto una fatturazione netta, distinta, che ci portava direttamente alla ditta o al center gross dove sono collocate molte ditte. Stiamo verificando, abbiamo chiesto la fatturazione, ovviamente la ditta che è tenuta a disibircela, dopodiché certo andremo a fondo, magari interloquendo anche la guardia di finanza. Marco Simoncelli, il giovane pilota romagnolo scomparso domenica scorsa in un tragico incidente nel Gran Premio della Malesia. È stato ricordato questa mattina in Regione, prima del lino nazionale, in apertura dei lavori dell'Assemblea Legislativa. Il Presidente del Consiglio regionale, Matteo Ricchetti, ha detto che le note del lino di Mameli erano quelle che tutti ascoltavamo quando Simoncelli saliva sul podio. Marco era un ragazzo semplice, con voglia di fare e con queste caratteristiche portava in giro per il mondo anche l'Emilia Romagna, che era la sua e la nostra terra. Ricchetti ha infine espresso la famiglia del giovane pilota deceduto, la vicinanza di tutta l'Assemblea Legislativa di via Aldomoro. Ricordiamo infine che i funerali del pilota si terranno domani a Coriano, in provincia di Rimini, a partire dalle ore 15. E restiamo all'Assemblea Legislativa perché rispondendo ad un'interrogazione della Lega Nord in regione l'assessore alla sanità Carlo Lusenti esclude che si possa parlare di malasanità per tutti e sei i decessi avvenuti negli ospedali bolognesi nell'ultimo periodo. Abbiamo fiducia nei magistrati, ha detto Lusenti, ma i protocolli emiliani sono i più avanzati in Italia. Vediamo il servizio. Sono sei i casi di decessi in ospedale a Bologna e provincia negli ultimi mesi sui quali sta indagando l'autorità giudiziaria, ma non per questo dietro a ognuno di loro ci deve essere per forza un caso di malasanità. Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla sanità Carlo Lusenti rispondendo ad una interrogazione della Lega Nord in cui si denunciavano nell'ordine un decesso al maggiore, due al Sant'Orsola e tre all'ospedale di Bentivoglio dove di recente sono morte due neonate e una mamma di 33 anni. Lusenti, dopo aver confermato la piena fiducia nel lavoro dell'autorità giudiziaria e dell'apposita commissione della USL di Bologna, ha ricordato le linee di indirizzo della gestione del rischio varate dalla regione già nel 2006. Sulla base di questo protocollo, ha aggiunto Lusenti, tutte le aziende sanitarie hanno un referente per la gestione del rischio e le attività in questo ambito sono le più avanzate in Italia. Non soddisfatto l'esponente del carroccio Manes Bernardini che nella replica ha puntato il dito sugli aspetti organizzativi, l'aumento dei carichi di lavoro del personale e lo stress degli operatori. Basta ricordare, ha concluso Bernardini, che in questi giorni al maggiore di Bologna ci sono 14 pazienti in più nel solo reparto di medicina generale, un numero che appesantisce una situazione già di emergenza. Siamo adesso alla pagina economica. In mattinata si è parlato del mercato cinese e delle strategie per entrare in questo mercato in un convegno organizzato da Unicredit e intitolato appunto destinazione Cina. C'era anche Romano Prodi, vediamo. Se accettiamo la sfida la possiamo vincere. Se noi pensiamo di essere i migliori e quindi conservare il nostro livello stando chiusi in casa, noi abbiamo già perso la partita, ma non solo con la Cina. L'abbiamo perso con tutto il mondo. Grazie. Così Romano Prodi ha voluto spronare gli imprenditori presenti in mattinata nella sede di Unicredit a Bologna al convegno Destinazione Cina, in cui si è parlato di quelle che sono le strategie migliori per entrare nel mercato cinese, in particolare per i settori dell'enogastronomia e dell'abbigliamento arredamento. Qui adesso, quest'oggi, abbiamo una serie di imprenditori concentrati in due settori molto specifici, però poi dopo ovviamente l'idea nostra è quella di cercare di creare dei team di lavoro che possano effettivamente trovare la maniera di incoraggiare l'espertise di questi imprenditori e accompagnarli nei paesi di cui stiamo parlando. Logicamente là abbiamo delle filiali, abbiamo un paio di filiali molto ben articolate, ci sono anche delle altre aperture in vista, i tempi burocratici sono piuttosto lunghi, ma la nostra idea è di fare scouting per trovare là dei partner potenziali per questi nostri clienti imprenditori. Per uscire dalla crisi quindi è imprescindibile cercare di puntare verso l'est e quindi verso la Cina? Cioè bisogna non avere paura della Cina e anzi sfruttare questo nuovo mercato? Direi assolutamente di sì. Per uscire dalla crisi occorre partire dall'assunto che l'Italia è forse il paese in cui la qualità della vita è la migliore. Questo vuol dire che noi abbiamo tutta un'industria che è capace di produrre beni e servizi a favore della qualità della vita. C'è una parte consistente di mondo, soprattutto a Est, ma Est vuol dire Cina, vuol dire India, ma vuol dire anche Europa dell'Est, che oggi si sta arricchendo, dove si stanno formando 500 milioni di nuovi consumatori che desiderano qualità della vita. E' il Made in Italy la risposta. Allora si tratta di sfruttare questa opportunità che non ci sarà per sempre, ma che è assolutamente unica, di far ripartire il nostro paese collocando il Made in Italy nelle posizioni principali su questi mercati in grandissima crescita. Buone notizie per la Bruno Magli, la storica azienda bolognese che sopravvive grazie ad un accordo firmato in regione. Prevista la cassa integrazione fino a dicembre del prossimo anno, poi se necessario gli ammortizzatori sociali. Il punto con Alessia Salvatori. Cassa integrazione fino a dicembre 2013, poi se necessario, eventuali ammortizzatori sociali. L'azienda di calzature Bruno Magli di Bologna resta viva e con essa il tavolo istituzionale per trovare nel periodo le necessarie soluzioni alla crisi. Un primo passo in avanti è il commento di Giancarlo Muzzarelli, che promette di continuare a lavorare tutti insieme con responsabilità per garantire l'occupazione, ma anche per progettare un rilancio e soprattutto per assicurare la sopravvivenza di una storica azienda come la Magli. E tutto questo, dice Muzzarelli, con il cuore a Bologna. Sono parole confortanti quelle dell'assessore regionale alle attività produttive al termine dell'incontro che si è concluso ieri sera con la sottoscrizione di un accordo tra le parti. Alla tavola rotonda in regione c'erano anche i dirigenti della Bruno Magli SPA, i rappresentanti della provincia e del comune di Bologna, di Confindustria, dei sindacati di categoria e dei lavoratori. L'accordo prevede che dal primo novembre l'azienda richiederà un periodo di cassa integrazione in deroga, così come previsto dall'accordo raggiunto in un'industria il 17 ottobre. Dal primo dicembre verrà richiesto successivamente l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo di 24 mesi. Dopodiché, se sarà necessario, si procederà chiedendo gli ammortizzatori sociali. C'è un'altra incredibile notizia di cronaca in preda ad un raptus. Un moldavo di 22 anni con problemi psichici ha fatto irruzione a casa della sorella e ha ucciso il gatto, decapitandolo con un coltello da cucina, tutto sotto gli occhi del nipotino. È successo ieri pomeriggio a Loiano, sull'Appennino Bolognese. Nell'abitazione c'erano solo il figlio della sorella di 15 anni e la nonna, che sono fuggiti terrorizzati, temendo anche per la loro incolumità. È stato lo stesso ragazzino a chiamare i carabinieri che più tardi hanno rintracciato il Moldavo in un bosco dove si era nascosto. Il giovane che soffre di schizofrenia è stato portato all'ospedale maggiore per un successivo ricovero in una struttura di igiene mentale. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. I nuovi studio con ETG Bologna. Prima di proseguire rivediamo il sommario del nostro telegiornale. Al via i lavori di riqualificazione dell'aeroporto Marconi di Bologna, cantieri per due anni, ma alla fine la nostra città avrà uno scalo rinnovato e all'altezza dei principali aeroporti europei, investimenti per 23 milioni di euro. Due tunisini che dormivano sotto il Ponte Lungo sono stati salvati dai vigili del fuoco e dalla polizia dopo essere rimasti bloccati a causa della piena del fiume Reno. È una delle conseguenze del maltempo che è imperversa sul nord Italia. Rispondendo ad un'interrogazione della Lega Nord in regione, l'assessore alla sanità Lusenti esclude che si possa parlare di mala sanità per tutti e sei i decessi avvenuti negli ospedali bolognesi nell'ultimo periodo. Abbiamo fiducia nei magistrati, ha detto Lusenti, ma i protocolli emiliani sono i più avanzati in Italia. Investire in Cina senza paura e bisogna sfruttare i nuovi mercati, collocando il Made in Italy laddove nascono nuovi consumatori e questa è la ricetta indicata in un convegno organizzato da Unicredit, presente anche Romano Prodi. Buone notizie finalmente per la Bruno Magli, la storica azienda bolognese che sopravvive grazie ad un protocollo firmato in regione. È prevista la cassa integrazione fino al dicembre del prossimo anno, poi se necessario, gli ammortizzatori sociali. Si è parlato di barriere architettoniche e di città a misura di disabili oggi al Baraccano in un appuntamento promosso dal quartiere Santo Stefano con l'associazione FIABA, il Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche. Noi abbiamo sentito gli organizzatori, vediamo. È un'iniziativa importantissima che secondo me dovrebbe essere stesa in tutti i quartieri o comunque in tutti i comuni. Quello che mi preme sottolineare, oltre al fatto di essere felice di ospitare il Presidente Trieste in questa occasione, è che si pone l'accento su quello che è un tema, che è quello della disabilità, che intanto potrebbe far parte di ognuno di noi, prima di tutto, e quindi un'altra considerazione di quello che è il disabile. E in particolare il fatto che tutti i comuni dovrebbero cominciare, quando progettano delle cose a entrare nel merito e quindi un'urbanistica concepita anche in un modo diverso, quindi una modernità che possa tenere conto delle esigenze che possono cambiare. Noi stiamo passando a un welfare di tipo completamente diverso, quindi la sussidiarietà che è sempre più importante e vi sono tante associazioni di volontariato sociale, tante onlus, tante rete di individui e questo serve a tutti per migliorare il sistema. Noi dal 1 al 31 ottobre in tutte le regioni d'Italia facciamo delle iniziative per sensibilizzare affinché le nuove costruzioni nascono ad accessibilità globale, perché così facendo la gente vive in ambienti più confortevoli e più comodi e si cambia anche e il vecchio viene ammodernizzato. Questo è il senso del fiabadei, costruiamo città accessibile dove tutti i cittadini possano avere qualità di vita e pari opportunità. Cambiamo argomento, Dio è la risposta al vostro bisogno di speranza. Con queste parole l'arcivescovo di Bologna Carlo Caffara si è rivolto ieri agli studenti universitari durante la messa in occasione dell'inizio del nuovo anno accademico. Vediamo. Studenti universitari, docenti e personale amministrativo dell'Alma Mater hanno preso parte alla messa d'inizio dell'anno accademico celebrata dal cardinale Carlo Caffarra nella cattedrale di San Pietro. A celebrare con lui il vicario episcopale per la cultura incaricato della pastorale universitaria Monsignor Lino Goriup. Nelle prime file anche il rettore dell'Università di Bologna, Ivano Dionigi. Davanti ai giovani universitari il cardinale ha parlato del bisogno di speranza che riguarda appunto studenti e giovani. Il presente che state vivendo faticoso ed incerto può essere vissuto bene solo se ha la prospettiva di un futuro, ha detto durante l'Omelia, la prospettiva di una meta certa e così affascinante da meritare ogni fatica del cammino verso di essa. È grave infatti l'insidia che sta alle porte del vostro cuore ritrovarsi e riconoscersi in quella sorta di scetticismo così bene espresso dal poeta latino. Uno spirito contento del presente rifugge dal pensiero di ciò che accadrà in futuro. Ma che cos'è che dà il diritto di sperare? Ha chiesto il cardinale. È l'intima certezza, scandito, che Dio ama personalmente ciascuno di noi, che Cristo è morto per ciascuno di noi. Non siete più soli nel cammino della vita, in Gesù Dio è vostro compagno di viaggio. Non vi sto dando delle informazioni, vi sto notificando una possibilità reale di esistere nella speranza e voi potete fare vostra questa possibilità mediante la fede. Noi ci fermiamo un'altra pausa pubblicitaria tra poco. Di nuovo in studio con ETG per parlare di calcio. Questa sera si gioca la nona giornata di Serie A, il Bologna gioca a Chievo, gioca a Verona contro il Chievo. Siamo già in collegamento con Rita Mandini che poi alla fine del telegiornale sarà collegata anche con la nostra trasmissione Solo Calcio per seguire in diretta le fasi salienti della partita Chievo-Bologna. Rita, buonasera. Buonasera Massimo e buonasera anche a tutti i telespettatori. Siamo qui già all'interno dello stadio Bentegodi dove tra poco tra un'oretta inizierà la partita tra Chievo e Bologna. Esattamente il calcio inizia alle 20.45. Per quanto riguarda la formazione dovrebbero orientare Pioli può contare nuovamente su Gillet e Perez. Quindi Gillet sarà fra i tali in difesa Raggi, Portanova, Cherubine, Morleo, Perez, Mudingai e uno fra Conè e Pulsetti a centro campo poi Ramirez alle quale della coppia di Vaio-Gimenez. Questa è la probabile formazione ovviamente ancora presto per avere le formazioni ufficiali. Vi ricordo che seguiremo tutta la partita e anche il dopo partita della partita tra Chievo e Bologna con Solo Calcio che inizierà appunto tra pochissimo. Invece la radio cronaca integrale della partita su Radio Nettuno con Sabrina Orlandi e Gianfranco Civolani. Direi che al Bentegodi al momento è tutto. A te la linea Massimo. Grazie, grazie Rita Mandini. Un'ultima notizia questa sera alle 23. Nuova puntata di Palcoscenico In dedicato solo per citarne alcuni ad Aladdin Il Musical, all'Europa Auditorium, alla prima nazionale di One Dixon Road all'Arena del Sole con le coreografie di Nigel Cernok, al teatro Deon Glauco Mauri e Roberto Sturno saranno in scena con quello che prende gli schiaffi. Spazio anche al teatro dialettale, sempre al Deon con la compagnia Lucchini. Poi naturalmente ci saranno anche i spettacoli degli altri teatri della nostra regione. Appuntamento quindi con Palcoscenicoini questa sera alle 23, sempre ovviamente sul canale 10 del Digitale Terrestre. In chiusura come sempre i titoli principali del nostro telegiornale. Al via i lavoratori di riqualificazione all'aeroporto Marconi di Bologna, cantieri per due anni. Alla fine la nostra città avrà comunque uno scalo rinnovato e all'altezza dei principali aeroporti europei, investimenti per 23 milioni di euro. Due tunisini che dormivano sotto il Ponte Lungo sono stati salvati dai vigili del fuoco e dalla polizia dopo essere rimasti bloccati a causa della piena del fiume Reno e una delle conseguenze del maltempo che è imperversa sul nord Italia in queste ore. Rispondendo ad una interrogazione della Lega Nord in regione, l'assessore alla sanità Lusenti esclude che si possa parlare di mala sanità per tutti e sei i eccessi avvenuti negli ospedali bolognesi dell'ultimo periodo. Abbiamo fiducia nei magistrati, ha detto Lusenti, ma i protocolli emiliani sono i più avanzati in Italia. Investire in Cina senza paura e bisogna sfruttare i nuovi mercati, collocando il Made in Italy laddove nascono i nuovi consumatori e questa è la ricetta indicata ad un convegno organizzato da Unicredit, presente anche Romano Prodi. Buone notizie per la Bruno Magli, la storica azienda bolognese che sopravvive grazie ad un accordo firmato in regione, prevista la cassa integrazione fino al dicembre del prossimo anno, poi se necessario gli ammortizzatori sociali. Con questo è davvero tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, dopo di noi solo calcio e a tutti una buona serata.